e ciao ragazzi ed eccoci qui con un nuovo episodio e pauroso si spera di giochi paurosi oggi farò per voi wreck shutter credo che si chiama non lo so non mi ricordo ragazzi comunque purtroppo è fatto con fps creator se non mi sbaglio quindi ho paura che il gioco sia settato al massimo di 30 frame per secondo vediamo il caricamento è quello di fps creator ho abbassato un po' il volume del gioco perchè veramente il menu mi assordava adesso non mi ricordo più come si alza ok ho alzato il volume delle cuffie qua di x story è impazzito mi dice che ho 888 frame al secondo ok e il caricamento ovviamente come tutti i giochi di fps creator è veramente velocissimo perchè si blocca sempre a metà comunque io taglio questo caricamento mamma mia ragazzi e speriamo che non si bugga il gioco perchè se no mi incazzo ok ah puttana puttana mi è esploso il timpano destro e sinistro eh ok ok adesso va a 30 frame prima andava a 80.000 allora tip hold w to start camera ok ok figata guardate figata stiamo tenendo la telecamera storta che l'è sta roba oh che l'è che l'è sto gioco che l'è sti suon so i arrived at the asylum now scary bitter start investigating for my report ok ok ah cazzarola dove sono incastrato in un uno scatolone comunque volevo dire su one ho fatto il test di twitch allora va un po' così cos'ha quindi vi volevo chiedere volete che faccio delle live su dei giochi sulla one se si fatemelo sapere nei commenti e io cercherò di organizzarmi cercherò di rompere le balle alla vodafone così mi mi fa andare bene la linea perchè ultimamente boh ci sono dei giorni che non so c'è delle impennate strane va a 30 mega che dovrebbe andare a 7 poi altre invece va a 2 mega una roba strana l'upload comunque continuiamo a giocare non parliamo di one di twitch c'è di che cazzo non so che cazzo devo fare io qua dentro posso correre ok posso correre che cazzo sono dei che cazzo è prosciutto madonna che prosciutto io ho visto un foglio sento una chiave come si prende con dove cazzo è eh l'ho capito come un old key e pigliamela take the key e take l'ho presa ok e quel foglio là nel piatto chi è che si mangia i fogli no niente non posso prenderlo comunque è carino sto gioco mi sembra molto tipo outlast boh comunque su one me lo voglio comprare quindi se volete magari una live su outlast fatemelo sapere e se no prima un po' mi compro il game capture che cazzo ah una radio oh l'ho spenta meno male che da oh la i fulmini dentro una casa ah ci sono delle finestre ok ok non si capisce niente sto lì sto volando su oh mamma mia ma non è che c'è una ma c'era la flashlight c'è una roba strana posso aprire l'armadio no ok affanculo la bambina comunque è carino questo gioco dimmi solo che non laghi da nessuna parte adesso sta andando 40 frame boh prima andava a 3 uno scatolone a remote security door ah quello door ok l'ho capito ma la batteria si scaricherà non lo non lo so è è una e adesso c'è un'altra porta di qua no che cazzo questa roba proviamo un po' a toglierlo ma non si vede una minchia io ho paura che ho bisogno delle batterie porca miseria quella roba lì non la posso fare di nuovo il quadro di satana eh fammelo analizzare puntini ma puntini eh che boh non so c'è scritto qualcosa ma vabbè posso pigliare sta lanterna di aladino i 30 ladroni lì come cavolo si chiama dove sono ok sto boh mi baggo in giro ecco qua c'è un altro foglio nel piatto che cazzo boh vabbè non fa niente non fa niente qua cos'è quella roba lì una cuffia ok non ah la luce vediamo un po' se l'ha accesa ma l'ho accesa l'ho spenta l'ho accesa ok però qua non si vede un cazzo non c'era ah si c'è un letto così è acceso così è spenta così è acceso ok scusatemi molto se su youtube si vedrà poco ma vedo già poco io ok allora ah c'è un cacciavito visto e fammi passare no si è un cacciavito un cacciavite no che cazzo è un salamino eh horrible clast che cazzo vuol dire si 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 piglialo piglialo sto quadro lo distruggo c'è un inventario però no accendiamo la luce anche di qua guardate non l'avevo visto prima mi posso mettere qua sopra credo aspetta ho perso il mouse ho perso tutto guardate che genius ma che key come si abbassa in sto gioco c ok con c si abbassa r t to zoom in ah ah è un corpo c'è un corpo un corpo morto e vabbè un corpo vivo vabbè comunque andiamo avanti e sto gioco qua mi sta piacendo io direi vaffanculo no non direi vaffanculo direi di dividere questo episodio in due parti stoppiamo qui e vedremo il continuo nel prossimo episodio di giochi paurosi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci becchiamo un prossimo episodio ciao ciao e buonanotte